armonizzarsi verso la nuova era dello spirito attraverso pietro ubaldi armonizzarsi è il metodo per costruire la felicità ribellarsi è il metodo per costruire il dolore il problema perché possa essere risolto va impostato in modo del tutto diverso da quello oggi seguito non si tratta di abbondanza di beni ma di saggezza nel comportarsi non di possedere più o meno ma di possedere bene secondo giustizia una vittoria non giusta è inutilizzabile una ricchezza inquinata alle sue sorgenti non può darci che guai quanto dicemmo per la proprietà è vero anche per ogni acquisto come per il singolo anche per le classi sociali e per le nazioni ciò che non è equo e malato di disarmonia sarà consumato dal suo stesso veleno arderà in un'orgia rapida e passerà risolvendosi in cenere il problema del vero benessere non è affatto come si crede un problema esclusivamente economico ma un problema morale di comprensione e di condotta non sono i beni che mancano in terra manca l'uomo che li sappia adoperare la grande conquista da fare non è tanto quella materiale delle forze del pianeta quanto quello della saggezza umana la prima senza la seconda la felicità è un danno e non un vantaggio ogni acquisto compiuto in disordine è in realtà una perdita ogni vittoria ingiusta è una sconfitta la felicità è un equilibrio appena si esca dall'armonia appare il dolore appena si esca dalla misura del giusto il sistema di forza è distorto e il fenomeno inquinato ogni peccato in eccesso come in difetto è un errore da pagare difatti i popoli come gli uomini più ricchi non sono i più felici data la struttura del sistema dell'universo è data tale dominante condotta umana quale felicità possiamo aspettarci di trovare sulla terra grazie a tutti